dedicati ai giochi presenti, passati e futuri appartenenti alla mia collezione ora, sulla parte presente e passata ci siamo sulla parte futura, beh, mi sto un po' allenando con la DeLorean a andare avanti nel futuro e portare indietro qui nel passato le cose del futuro lo stile ovviamente del del canale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti no assolutamente non ho alcuna intenzione di no, io no, ma non mi interessa non voglio fare queste missioni ma che cosa stai facendo grazie a tutti bel colpo di lag, mi piace bel colpo di lag proviamo a abbassare la qualità comunque la signorina è spettacolare spero possiate ammirarla guardate il suo miglior profilo è una cosa incredibile c'è proprio il profilo a Cressidra insomma, dicevamo grazie a tutti grazie a tutti mi dispiace davvero santo mi dispiace davvero santo Mi dispiace davvero tanto Mi dispiace davvero tanto Che la locandiera se ne sia andata Elsa Che non se lo meritava E lo sai meglio di me che non se lo meritava Certo anche Visimir poteva evitare Di tirare fuori la spada Insomma Poi viene a dire che la colpa è nostra Ma è sua la colpa Allora andiamo un attimo qui Incognito in that war ravaged land His mission Allora andiamo un attimo qui Prima cosa il mio cavallo Con le mie ruote Poi saremo a bordo Del cavallo Bravo Geralt E adesso andiamo Dai su Galoppa Seguiamo la strada Facciamo le persone serie Cavalla Anzi Stavo pensando Ho detto è il mio cavallo Ma in realtà Sei il cavallo Di Geralt Non il mio cavallo Perché io non chiamerei mai un cavallo Cavalla Perché Rutiglia Che è successo qua Mi serve una mano Qualcuno è volato sotto la scarpata Che è successo A parte sto No Bisogna andare di qua Scusa E perdonami Ma non mi raccapezzo Campo di battaglia Idioti Ma che idea brillante Che hanno avuto Di andare A Di andare A Di andare A dare noia A De Gaulle No A dare noia A De Gaulle No Sono andare A Saccheggiare Un campo di battaglia Con i Gaulle Tutti in mezzo Sono morti Loro Oi Eh Ho perso qualcosa No lo so Voi forse avete perso qualcosa Tipo il vostro Il vostro senno A fare una cosa come questa Che vuoi Chi siete Sì Si hai ragione Che sono Un witcher Però Va bene Dai Che devo fare Di preciso Si è vero Ok Lui Ovviamente Avrebbe trovato Avrebbe provato Disgusto Nel Proteggere Sì Proteggere Questa Questi Lui li chiama Razziatori In realtà Sono Dei sciacalli Alla fine Sono Degli sciacalli No Catto Questo Mi sta bene Questo mi sta proprio bene Per averli voluti proteggere Per averti Questo mi sta proprio bene La ragione di certo Ho fatto male a dirti Che li dovevi proteggere Questa è la punizione Che ci meritiamo Per averli aiutati Ah Che bello Ti fa cominciare Ti fa ricominciare Proprio da qui Che bello Proprio Ne sentivo Veramente Il bisogno Le che cavola Oh Sto prendendo Decisamente male Sì Abbastanza Dunque Vediamo Un po' Che succede Qua Che massacro No Perché questa è realmente Messa qui E soprattutto Perché mi dice Che è pericolosa Non mi fa venire fuori Nessun'icona Senti Facciamo una cosa Inni C'è qualcosa di molto strano Qui Geralt Non so te Ma io sento Puzza di bruciato E non mi riferisco Al barrile Che abbiamo fatto Appena di suonare Che tu hai fatto Appena di suonare C'è qualcosa di strano Qui Molto strano Allora Allora continuiamo in questa direzione Ok qui c'è il campo dei cosi Aspetta un momento Aspetta un momento Siccome ho preso una legnata Che levati E non voglio che succeda Un'altra volta Riposo un attimo A questo punto Sono cazzuto e cattivo E vado a parlare Con quegli idioti Che succede Che succede Che succede Dai Dai Allora Allora Spiritosone Sono qua Ce la facciamo sta quest Sì sì Ha perfettamente ragione Cosa vuoi L'idea non mi piace Tanto Anche perché Questi penso Siano soldati Nilfgaardiani Però Se ci posso guadagnare Qualche cosa Perché no Che succede Ti è piaciuto questo? Alza direttamente dietro le spalle che sono arrivando Facciamoci la missione così almeno non c'è da fare altre Raccolta amaro Dove sono i goal? Vieni su, forta famiglia cosa sai... Uuuuh Eh si è batta addosso, tanto può fare A proposito, non sei lì Ok Ancora? Maledetta Ah questo lo sei bandito Vai Problema risolto C'è qualcuno altro che vuole fare a cazzotti? C'è qualcuno altro che vuole fare a cazzotti? Se vi legge una mano eh, non c'è che vuole fare tutto quanto da solo Voi alla faccia della trenalina No, finito? Bene, finito Ok, adesso raccattiamo tutto il raccattabile Poi Comunque ci siamo cavati abbastanza bene dai Geralt Considerato che abbiamo quasi finito la carne cruda però Questa potrebbe essere una cosa molto brutta Sai questi... Questi cosi insomma si vendono molto bene Questo è quel stupido Chiodi, si Ma ci ha smussato, dov'è? Dov'è lui? Aspetta un momento fammi salvare perché non si sa mai Allora non l'ho presa molto bene eh Ci sono colpi di lag qui? Non mi fare Cioè per adesso non ne vedo i colpi di lag Buon uomo! Ce l'abbiamo fatta allora? Tutto qui Cosa mi ha dato? 50 corone Ma Mi rifaccio la birra Beh C'è chi è mezzo briato ho sentito qualcuno di mezzo ubriaco l'hai sentito anche te Geralt no? c'era qualcuno di mezzo ubriaco ah è lui ma come te stai? si hai da fare lo vedo che hai da fare lo credo bene che hai da fare lo vedo che cavolo è questo? un cacciatore di strega? non mi piacciono queste persone o un cacciatore di strega? non mi piacciono queste persone o prima prima andiamo un attimo a parlare con il simpaticone qui allora ah ti ancora a lo già aiutata sai stupido qual è la tua offere? perchè già inizio a teore e lui e i ragazzi potremmi lavorare ah bene il miglioro ah Non è meglio. Non è meglio, ma non è meglio. Un piacere fare un'azienda con te. Non è meglio che tu sei. Tu sei ora. Tu sei che i altri patrionisti. si vede lontano un mio che fa subito posso anche buttare via non è costato nulla praticamente no glielo do di certo il lascia passare che vuole sto scendendo non mi sembra che tu te la stia passando molto bene caro il mio giudicatore fai tanto lo spiritoso così bello armato ma non sai nulla insomma voglio dire non vali nulla allora contratti da witcher eccolo qua il mostro dei boschi chi è con chi dobbiamo parlare con questo tizio qua cosa voglio cosa voglio per esempio vorrei capire cosa ci fai con quella padella in testa anzi con quella pentola in testa troppo penso sarebbe sapere chiedere troppe cose e benvenuti troppo penso proprio di sì questo è un buon As much as the notice says, I'm not going to haggle. The courtmaster won't budge. But I can throw in a pass that I'll get you to cross the pontar. So, deal? Sounds fair. See what I can do. Se non ricordo male, il vostro re è quello che ha scatenato la caccia alle streghe. Che vuole scatenare una caccia alle streghe. Non sono molto dell'idea di aiutarli. Non so cosa ne pensi Jelat, ma neanche io li aiuterei. Li vorrei aiutare. Cosa devo fare, precisamente? Marredaniani. Per quanto che il simpaticone del re del... Che è il padre di Ciri. Si ha un personaggio decisamente da ammazzare... Dalle risate. Ti fa morire dalle risate. Do preferisco al re che ha organizzato questa specie di caccia alle streghe. Quindi adesso si fa così. Ora... Non ho fatto un granché di live, francamente, ma... Voglio andare sul luogo. Fare un attimo l'investigazione. Una volta ho fatto l'investigazione, stacco. Perché... Un po' perché domani devo andare al lavoro. E quindi non posso stare tanto... E poi perché voglio vedere un po'... Come fare dopo. Sì, ho capito faster, però non mi sembra che stia andando faster. Anzi... Ferma... Oh, io ho un albio. Ma è possibile che ogni volta che... Uno... Ah, che... Quare... Ah, che bello. Ma c'è lì? Uff. Gagat, questo coso è pericoloso. Levati. Eeeh... Basta, guarda. Eeeh... Eeeh... Basta, guarda. Guarda, senti, lasciamo fare una cosa, me ne torno al minù principale, ora un attimo, pensa una roba e poi... No, assolutamente, non mi interessa. Bello. Bello questo. Questo deve essere collegato a... Al DLC. Bella questa... Questa schermata. Mi piace, il Geralt vestito così. Bello davvero, sì, sì. Vabbè, eeeh... Io adesso stacco e ci vediamo... Boh, domani. Non lo so. Reguardo un po'. Ciao, ciao. Dimenticavo, grazie per avermi seguito. Voi pensavate che me ne fossi dimenticato, eh? Ecco. Eeeh... Grazie.